Sindaco, se il Mazzini fosse stato a febbraio così come oggi non sarebbe successo tutto quello che è successo e se avessimo avuto un nuovo ospedale non sarebbe successo? Sì, sono le due domande che oggi ci poniamo tutti, poniamo tutti rispetto alle quali domande abbiamo una risposta tanto banale quanto forte. No, non sarebbe successo quello che si è verificato purtroppo sul Mazzini perché anche a seguito di un'azione istituzionale forte, di un'azione anche mediatica da parte di tutti i mezzi di comunicazione che hanno alzato l'attenzione sul nostro ospedale c'è stata una risposta in termini di sicurezza che oggi ho avuto modo di riscontrare attraverso tutta una serie di percorsi sia per l'accesso dall'esterno all'ospedale che all'interno dell'ospedale in cui abbiamo una serie di strumenti, di percorsi che garantiscono una sicurezza che ovviamente, questo va detto, in una pandemia non può eliminare qualsiasi ipotesi di rischio ma sicuramente lo riduce sensibilmente e consente al nostro ospedale di potersi proporre in questa fase 2 in cui verranno riattivate tutta una serie di attività ordinarie in una condizione decisamente diversa. Questo è un messaggio anche che rivolgiamo ai tanti cittadini e ai tanti pazienti fermo restando che dobbiamo comunicare sempre che in questo momento in ospedale dobbiamo andare solo se necessario perché insomma va evitato il sovraffollamento anche la ripresa della situazione ordinaria dovrà essere effettuata con la giusta gradualità. E poi c'è bisogno della strategia, strategia che non può che essere provinciale dove la centralità del Mazzini nella ripartenza è fondamentale perché costituisce il presidio di riferimento e ovviamente nel quadro provinciale noi abbiamo un ospedale Covid che come Covid sta lavorando bene, ringraziamo i medici di Atri e poi abbiamo altri tre presidi ospedalieri che possono svolgere fin da subito una funzione diversa. E poi c'è il tema, l'altra domanda, quella relativa al nuovo ospedale, alla nuova struttura. Sì, la domanda a cui dobbiamo rispondere oggi è questa, una nuova struttura è assolutamente necessaria, ci sono le risorse proprio per puntare sull'innovazione tecnologica e dare una garanzia assolutamente diversa di rilancio al diritto alla salute dei nostri cittadini per una prospettiva lunga perché parliamo di un ospedale per i prossimi 50 anni, quindi dobbiamo guardare molto molto oltre e che possa valorizzare un contenuto che è quello del Mazzini già oggi che è straordinario e ne fa appunto l'ospedale di riferimento del territorio provinciale e non solo. Ecco perché non solo chiediamo ma pretendiamo che il nostro territorio, che l'ospedale di Teramo, il territorio provinciale, quindi l'offerta sanitaria provinciale, possa essere destinataria così come altri territori di risorse perché è un momento in cui questa emergenza deve porci il tema del miglioramento della qualità dell'offerta sanitaria, nell'ambito della quale noi dobbiamo svolgere un ruolo centrale e lo faremo, quindi questa è una richiesta istituzionale forte che parte dall'emergenza ma che guarda molto lontano.